Ben ritrovati alla nuova puntata di Dal Vivo, quest'oggi siamo in collegamento con Donatella Ronchi, assessora alle politiche sociali del Municipio 2, che già da un anno ha attivato il progetto psicologo di quartiere presso Cascina Turro, di cui oggi ci parlerà. Benvenuta Donatella Ronchi, le chiedo innanzitutto di parlarci proprio di questo suo progetto e di come nasce. Buongiorno, il progetto nasce già nella programmazione, faceva parte del programma della campagna elettorale presentato dall'attuale maggioranza, per cui era una delle cose che c'eravamo già prefissi prima. Nasce soprattutto da un bisogno portato dai giovani e infatti il gruppo dei giovani democratici ha spinto molto per avere lo psicologo di quartiere. È un progetto che io ho preso molto a cuore perché i problemi psicologici alla fine li abbiamo tutti e viviamo in una società in cui tendiamo a voler sembrare sempre perfetti. Questo non solo ci crea degli stress, ma molte volte ci mette di fronte delle difficoltà ad affrontare le fragilità che abbiamo e anche ad ammetterle, soprattutto c'è chi le ammette ma chi invece le nasconde. E come società non intendo la nostra società moderna, intendo proprio la società umana che ha un po' questi meccanismi. Quindi abbiamo innanzitutto fatto una commissione, cercato di capire dove era già stato applicato, qual era stato l'iter e poi abbiamo affidato a un'associazione di psicologi e psichiatri il primo progetto pilota. Questa associazione è la nave del sole e da subito ha iniziato a collaborare e a cercare collaborazione sul territorio con tutte quelle altre realtà che si occupavano di disagio mentale e di disagio psicologico, scusate. Ed è stato molto interessante, adesso sta proseguendo, noi gli abbiamo dato uno spazio a Cascina Turro che è uno spazio del municipio molto bello, è una cascina storica, tanto per dirvi dove noi celebriamo i matrimoni del municipio e finora non hanno mai avuto un'ora vuota, ogni ora a disposizione che sono 4 ore alla settimana sono sempre state occupate e la loro rete si è molto espansa, in occasione della giornata della salute mentale il 10 ottobre ne abbiamo avuto anche una prova concreta con tutti quelli che hanno partecipato, gli enti che hanno offerto il loro tempo, le loro risorse. Lo psicologo di quartiere non fa terapia diretta, lo scopo dello psicologo di quartiere è in 3-4 incontri, a volte anche di più dipende, capire quali sono le esigenze della persona che ha di fronte e indirizzarla verso altri gruppi, altre terapie o comunque sempre a un prezzo calmerato, qualche volta anche gratuito, a secondo anche della situazione economica della persona che si trovano di fronte. Poi a volte non hanno neanche bisogno di dover fare terapia, ma di altro tipo di aiuti. Vi faccio un esempio, una donna si era presentata dicendo che aveva bisogno di casa e quindi loro hanno detto vabbè non ci occupiamo di questo, però hanno investito questo tempo con questa signora, hanno continuato a parlare con lei e hanno capito che in realtà questa signora aveva un problema di violenza domestica a casa, se non doveva andare perché era una situazione pericolosa e che forse faceva anche fatica da ammettere pienamente e quindi poi è stata indirizzata verso chi si occupa di violenza di genere per essere protetta. Quindi non è detto che ci sia un'unica direzione, un unico sviluppo. Perfetto, quindi oltre al problema che appunto appena è elencato, volevo chiederle quali sono gli altri problemi generali che sono emersi grazie all'ascolto di questo sportello? Beh, sicuramente una grossa difficoltà ad affrontare il cambiamento nelle vite, nelle vite di tutti e che il cambiamento può essere per i più giovani il momento di crescita, quei passaggi di un certo tipo per i più grandi può essere invece un momento di invecchiamento e anche ad esempio un grosso supporto ai caregiver. Adesso noi abbiamo spesso queste figure che si occupano degli altri più o meno volontariamente oppure sono badanti o quant'altro e è sempre un lavoro logorante e spesso ci troviamo anche queste figure che si ritrovano, non so, a badare al genitore anziano e al nipotino e molte volte è anche difficile superare come dire, affrontare il fatto che tutto questo è faticoso, ti distrugge e magari ha anche dei sentimenti negativi verso queste situazioni, perché esiste magari il senso di colpa se stiamo parlando dei tuoi genitori, dei tuoi parenti stretti, dei tuoi figli, ma tutto questo è normale, è umano. Perfetto, certo, certamente. E a distanza di un anno, che tipo di risvolti ha portato questo sportello d'ascolto a chiunque aderito a questo progetto? Beh, allora, io conosco ovviamente i dati in modo sintetico, perché giustamente esiste la privacy, quindi non conosco le persone direttamente, non è neanche il mio compito seguirle, o leggo i report che fanno, giustamente. Beh, qualcuno adesso è seguito da qualche terapeuta, perché poi lo psicologo di quartiere continua comunque a seguire queste persone, cioè, anche se le manda e le fa seguire da qualcun altro, perché non fa direttamente terapia, continua comunque a tenersi aggiornato, a monitorare come sta andando il percorso di queste persone. Al momento veramente seguite nel loro percorso non sono tantissime, sono forse una decina, ma quelle che hanno avviato invece dei percorsi sono un po' di più, alcuni avevano bisogno semplicemente di chiarirsi l'idea, chiarirsi l'idea con qualcuno che forse un po' più, come dire, fosse più il suo mestiere farlo, e che questa è stata la funzione principale, cioè la maggior parte delle persone ha usufruito di un aiuto di questo tipo. E adesso c'è un'evoluzione verso gli under 14, nel senso che a breve il progetto si amplierà con uno spin off verso gli under 14 e attraverso le scuole, che ci hanno chiesto aiuto, ci hanno chiesto aiuto perché stanno affrontando dei problemi di disagio mentale, che probabilmente avevano anche prima, ma che dopo il Covid si sono cotizzate, sono uscite in modo più prepotente e forse adesso si parla un po' di più di disagio mentale, hanno avuto anche casi un po' seri di tentato suicidio, quindi le scuole ci hanno chiesto aiuto, dateci degli strumenti per intercettare queste situazioni, perché non sappiamo cosa fare, non sappiamo come muoverci e quindi col nuovo anno solare partirà questo progetto under 14. Noi ci mettiamo quello che possiamo come risorse di municipio, ma l'idea è che lo psicologo di quartiere rimanga anche quando non sarò più assessora, l'idea è di aiutarli a partire e che diventi qualcosa di radicato nel municipio e che trovi anche altre risorse, che lo spazio gli rimanga sempre a disposizione, ma questo perché non vorrei fosse un progetto che finisse con noi, il bisogno c'è e quindi dovrà continuare. Dunque per finire e prima di salutarci le chiedo di darci qualche informazione sui contatti per chiunque volesse dedire allo psicologo di quartiere. Ah, accidenti, dovreste avere la locandina, credo, io ce l'ho. Ok, quindi possiamo trovare tutti i contatti sulla locandina. Sì, perché c'è un numero a cui chiamare per prendere l'appuntamento e i giorni a cui presentarsi anche di persona, meglio telefonare e prendere un appuntamento, ma ci sono anche giorni in cui ci si può presentare per prendere un appuntamento. È abbastanza importante prendere l'appuntamento per avere del tempo dedicato, veramente dedicato e anche per privacy. È più bello lasciare le persone nella libertà di… Insomma, è difficile affrontare questo tipo di percorso cuore leggero se non ci si sente liberi dallo sguardo degli altri, dal giudizio degli altri. Sicuramente. I professionisti non danno giudizi. Ok, sicuramente. Quindi con questo la ringrazio di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro veramente un buon lavoro. Grazie.